Mentre la compagnia attraversava. Oh padre, non immergere la barba nella schiuma! gridarono a Thorin, che stava chino quasi a carponi. È già lunga abbastanza anche senza annaffiarla! E attenti che Bilbo non si mangi tutti i dolci! trillarono. È già troppo grasso per riuscire a passare attraverso il buco della serratura. Shhh! Sitti! Buona gente! E buonanotte! Buonanotte, disse Gandalf, che era l'ultimo. Le valli hanno orecchie e certi elfi chiacchierano un po' troppo allegramente. Buonanotte! E così finalmente arrivarono tutti all'ultima casa accogliente e la trovarono con le porte spalancate. È una cosa strana, ma a parlare delle cose belle e dei giorni lieti si fa in fretta e non è che interessi molto ascoltare. Invece da cose gravose, emozionanti o addirittura spaventose, si può trarre una buona storia o comunque un lungo racconto. rimasero per un bel po' in quella casa confortevole, almeno 14 giorni, e per loro fu duro andarsene. Bilbo sarebbe stato contentissimo di fermarsi lì per sempre, anche supponendo che un desiderio esaudito per magia potesse portarlo senza guai diritto al suo buco hobbit. Ma in quel soggiorno c'è poco da raccontare. Il padrone di casa era un amico degli elfi, una di quelle persone i cui padri compaiono nelle strane storie, che precedono l'inizio della storia stessa, nelle guerre tra gli orchi malefici, gli elfi e i primi uomini del nord. Nei giorni in cui si svolge la nostra storia c'era ancora gente che aveva per antenati sia gli elfi sia gli eroi del nord. E Herond, il padrone di casa, era il loro capo. Era nobile e bello in viso, come un sovrano elfo, forte come un guerriero, saggio come uno stregone, venerabile come un re dei nani e amabile come l'estate. Compare in molte storie, ma la sua parte in quella della grande avventura di Bilbo è piccola. Anche se importante, come vedrete, se riusciremo mai ad arrivare alla fine. La sua casa era perfetta. Che vi piacesse il cibo, il sonno, o il lavoro, o i racconti, o il canto, se preferireste soltanto star seduti a pensare, o anche se amaste una piacevole combinazione di tutte queste cose, in quella valle il male non vi era mai entrato. Vorrei avere il tempo di raccontarvi almeno qualcuna delle storie, o riportare una o due delle canzoni che udirono in quella casa. Tutti quanti, perfino i poni, si ritemprarono e si rinforzarono nei pochi giorni che vi trascorsero. Ci si prese cura dei loro abiti come delle loro ammaccature, del loro umore e delle loro speranze. Le loro bisacce furono riempite di cibo e di provviste leggere da portare, ma tanto sostanziose da permetter loro di superare i passi montani. I loro piani furono migliorati grazie a eccellenti consigli. Così si arrivò a mezza estate, ed essi dovevano rimettersi in cammino proprio la mattina di mezza estate, al sorgere del sole. Herond sapeva tutto su qualsiasi tipo di runa. Quel giorno guardò le spade che essi avevano portato via dal covo dei troll e disse «Questa non è di fattura troll, sono spade antiche, spade antichissime, appartenenti agli alti elfi dell'Ovest, alla mia stirpe. Furono forgiate a Gondolin per le guerre contro gli orchi. Devono provenire dal tesoro di un drago o dal bottino degli orchi. Infatti, draghi e orchi distrussero quella città tanto tempo fa. A questa, Thorin, le rune danno il nome di Orcrist, che vuol dire fendi orchi, nell'antico linguaggio di Gondolin. Era una lama famosa. Invece questa, Gandalf, è Glamdring, l'abbatti nemici, che un tempo era cinta dal re di Gondolin. Conservatele con cura. «Chissà dove se le erano procurate, i troll», disse Thorin, guardando la propria spada con rinnovato interesse. «Non saprei», disse Herlond, «Ma si può immaginare che i vostri troll avessero depredato altri predoni o avessero messo le mani sui resti di antichissime ruberie in qualche rifugio sulle montagne. Ho sentito dire che ci sono ancora tesori d'altri tempi dimenticati che debbono essere ritrovati nelle caverne abbandonate delle miniere di Moria. Dopo la guerra tra i nani e gli orchi, sono rimaste lì». Thorin apponderò quelle parole. «Terrò questa spada con grande onore», disse. «Possa presto tornare a fendere orchi». «Un desiderio che probabilmente sarà soddisfatto sulle montagne», disse Herlond. «Ma adesso mostratemi la vostra mappa». «La prese e la fissò a lungo e scosse la testa. Infatti, se non approvava interamente i nani e il loro amore per loro, odiava i draghi e le loro crudele malvagità. E lo rattristava ricordare la rovina di Conca, la città delle allegre campane e le rive bruciate del rilucente fiume fluente. La luna brillava ed era una larga falce d'argento. Herlond sollevò la mappa al cielo e la luce bianca splendette attraverso di essa. «Cos'è questo?», disse. «Ci sono delle lettere lunari qui accanto alle rune invisibili che dicono «La porta è alta un metro e mezzo e ci si può passare tre per volta». «Cosa sono le lettere lunari?», domandò lo Hobbit, pieno di eccitazione. Amava le mappe, come vi ho già detto, e amava anche le rune e le lettere dell'alfabeto e la bella calligrafia, anche se quando scriveva faceva delle sottilissime zampe di gallina. «Le lettere lunari sono rune, ma si possono vedere», disse Herlond, o almeno non guardandone direttamente. «Si possono vedere soltanto quando la luna brilla dietro di esse, ma ciò che conta di più, anzi, il punto fondamentale, è che la luna deve trovarsi nella stessa fase e nella stessa stagione di quando le lettere sono state scritte». Furono i nani a inventarle e le scrivevano con penne d'argento «Come possono confermarti i tuoi amici?». Queste devono essere state scritte in una notte di mezza estate, quando la luna era crescente molto tempo fa. «E cosa dicono?», disse Gandalf. Forse un po' contrariato per il fatto che qualcun altro, sia pure Herlond, le avesse scoperte per primo. Benché, in effetti, non ce ne fosse stata la possibilità prima di allora e non ce ne sarebbe stata più di un'altra per chissà quanto tempo. «Stai in piedi vicino alla pietra grigia, quando picchia il turdo, lesse Herlond, e l'ultima luce del sole che tramonta nel giorno di Durin splenderà sul buco della serratura». «Durin, Durin!» disse Thorin. «Era il padre dei padri, della più antica razza dei nani, i lungobarbi e mio capostipite, io ne sono l'erede». «Allora, cos'è il giorno di Durin?» domandò Herlond. «Il primo giorno dell'anno nuovo dei nani», disse Thorin. «Eh, come tutti dovrebbero sapere, il primo giorno dell'ultima luna d'autunno alle soglie dell'inverno. lo chiamano anche giorno di Durin ed è quando l'ultima luna d'autunno e il sole stanno insieme nel cielo. Ma questo non ci aiuterà molto perché oggi è al di là delle nostre capacità a prevedere quando ci sarà di nuovo un momento simile». «Questo è ancora da vedere», disse Gandalf. «C'è scritto qualcos'altro?» «Niente che possa essere visto con questa luna», disse Herlond e restituì la mappa a Thorin. Poi scesero al rivo per vedere gli elfi che danzavano e cantavano celebrando la notte di mezza estate. Il giorno successivo era una mattina di mezza estate bella e fresca come in un sogno. Il cielo era azzurro senza una nuvola e il sole danzava sull'acqua. Partirono accompagnati da canzoni da Dio e di buona fortuna con il cuore pronto per nuove avventure e conoscendo la strada che dovevano seguire sulle montagne nebbiose fino alla terra al di là di esse. e di buona fortuna e di buona fortuna